buonasera a tutti mi sentite se potete darmi un feedback buonasera anche da parte mia però giuseppe vedo che è in registrazione già mi sa che è partita io ho messo la ho tolto la spunta infatti adesso provo a fare arresta registrazione poi lo facciamo ripartire al massimo buonasera trader benvenuti a questo nuovo appuntamento formativo organizzato da tic mille come sempre leggiamo il disclaimer in questi casi i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti non da tic mille danno carattere puramente educativo non costituiscono nessun incentivo di investimento chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione assumendosene tutti i rischi di conseguenza gli autori non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchino quelle di tic mille a meno che non sia stato specificato avvertenza sul rischio il training di prodotti finanziari in leva comporta un alto grado di rischio non è adatto a tutti gli investitori le perdite possono eccedere l'investimento iniziale assicurarsi di comprendere appieno i rischi e di curare attentamente la gestione del rischio avete visto nella slide precedente questo webinar è presentato dal sottoscritto giuseppe cericola sono il country manager italia di tic mille e questa sera con me c'è renato de carolis ciao renato mi senti ciao giuseppe ciao giuseppe saluto anche le persone che sono collegate buonasera perfetto un grandissimo ritorno quello di renato abbiamo avuto già modo di affrontare un po il discorso degli echinashi nel precedente webinar questa sera andremo entreremo un po nel vivo andremo a fare un'analisi su diversi strumenti quindi anche un'analisi on demand se avete delle delle richieste fatele pure in chat andremo a sprucciare un po i vari strumenti cercando di dare una view io direi sul lungo termine renato visto che comunque questo grafici daily già lo dico grafici giornalieri e per vedere quello che il trend in corso eventuali inversioni quindi comunque come sempre è di supporto a quella che la vostra strategia la vostra view se confermo meno quello che già voi avete visto quello che voi state facendo e quindi solo sarà così insomma discutere insieme di mercati assolutamente assolutamente e vedo già arrivando e vedo che già stanno arrivando le richieste ottimo ottimo scrivere 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 che facciamo tanti analisi oggi sto carri ma prima di entrare in vivo è doverosa rappresentazione del broker che rappresento e quindi vi elencherò vi elencherò le caratteristiche principali di tic mille che è un broker non di lead desk con commissioni tra le più basse del settore spread a partire da zero forte regolamentazione infatti abbiamo una regolamentazione della fca uk con i fondi segregati e assicurati fino a 50.000 esternine sono permesse tutte le strategie di trading non ci sono limitazioni sui profitti potete utilizzare tutti gli expert advisor che ritenete opportuni per il vostro trading sfruttando la nostra velocità di esecuzione che è senza pari visto che comunque garantita dagli oltre 10 server sparsi per il globo questo permette di avere anche degli slippage positivi quando andrate a mercato e ovviamente avete la garanzia di non avere mai un record sulla sulla piattaforma ci sono diversi adesso poi vedremo nelle analisi diversi strumenti di trading oltre a quelli principali del forex comunque abbiamo aggiunto anche da diverso tempo il bitcoin c'è il nostro indice il fuzzi mi oltre ai vari più importanti indici ci sono degli strumenti di training di ausilio al trading come auto chartist la vps sconto la vps poi il one click training e la demo è limitata una cosa particolarmente apprezzata dai nostri clienti perché potete comunque andare a verificare le vostre strategie quindi a controllare su un tempo illimitato visto che comunque appunto non scade la piattaforma poi non ci sono costi sui prelievi e depositi abbiamo anche un interessante programma partner di tic mil e tra siamo tra i pochi broker comunque che forniamo anche un'assistenza sulla dichiarazione del capital gain fornita da uno studio commercialista esterno e quindi vedete nella slide le gli sconti sulle tariffe applicate renato se vai sulla prossima slide ottimo vi faccio vedere un po dove dove sono i nostri server sparsi un po su tutto il globo oltre per quelli ovviamente eh più importanti come quelli di new york e londra e tokyo poi ci sono quelli di backup eh su a varie altre parti del eh sulle varie altre parti del diciamo del appunto del globo e potete inoltre confrontare le caratteristiche di training di tic mil nella slide successiva potete vedere le differenze di sulle sul piano commissionale tra tic mil e gli altri broker gli altri competitor su un sito esterno quello di my fx book quindi non un sito di tic mil potete sicuramente farlo anche adesso andando a controllare sul sito di my fx book e controllare le eh gli spread incluse le commissioni applicate dal nostro broker rispetto agli altri competitor eh scusami Giuseppe se mi inserisco perché come già anche l'altra volta non sono messi in ordine di eh diciamo miglior spread eh attenzione non è che questo è l'ordine e quindi vedete qui è tic mil e potete confrontare con tutto il resto quindi non è che eh xm diciamolo si vede è il miglior ha i migliori spread non è questa la l'ordine della classifica diciamo quindi ma e quindi potete confrontare zero sessanta rispetto agli altri per esempio euro dollaro vedete che zero sessanta è il più basso non è in ordine di importanza sono tutti ovviamente ottimi broker eh però c'è comunque sul piano commissionale ha comunque ehm potete poi riscontrarlo voi oggettivamente eh e quando si illumina quel rettangolo di verde significa che eh lo spread incluso la commissione eh è più basso rispetto eh agli altri ehm tic mil sta crescendo grazie anche soprattutto eh moltissimi clienti italiani che ci stanno dando la fidu fiducia infatti nella slide successiva potete vedere eh che abbiamo raggiunto degli ottimi eh traguardi abbiamo superato i centodiciannove miliardi di dollari di volume di training nel mese di di gennaio non ho ancora i dati di febbraio però spero che siano in linea con quelli di gennaio eh non vi eh rubo altro tempo eh alle analisi dei grafici e chi nasce vi invito soltanto a provare il conto eh di prova eh di eh tic mil ho cambiato il nome perché prima era un conto di benvenuto e molti pensavano che di dover effettuare un deposito per avere questi trenta dollari in realtà no è un conto di prova che ha già trenta dollari sul sul conto quindi vi basta a inserire un'email non vi chiedono documentazione o altro basta un'email e potete provare questo conto di prova con trenta dollari e e poi ovviamente fare il training fare training su server reale quindi diverso dal dal demo ovviamente è un piccolo capitale però già vi può dare un'idea eh su quelle che sono poi le qualità in reale del del broker visto che è lo stesso server del nostro conto di punta che è il conto pro comunque vi invito a poi a mh ad andare sul nostro sito su www.ticmil.com e se avete per qualsiasi domanda potete contattarmi a giuseppe chiocciola ticmil.co.uk io Renato avrei terminato con con la presentazione del broker quindi direi di entrare nel vivo vediamo se in chat c'è qualche eh vedete il grafico ovviamente lo riconoscete il grafico lo buonasera da parte mia anche agli utenti che sono eh collegati grazie giuseppe eh ringrazio per avermi invitato a questo nuovo appuntamento con l'analisi dei mercati eh saluto le tante persone vedo già molti nomi perché quello posso vedere Carlo l'ultimo che sta salutando adesso Carlo De Santis eh saluto chi magari non mi conosce faccio ormai questa professione full time dal duemila e due seguo i mercati dal duemila novantanove duemila ho conosciuto quella che è stata la bolla della new economy eh eh e soprattutto innamorato pazzo delle candele ai kinashi candele kinashi che sono molto simile a quelle che già lo vedete in questo grafico le candele classiche giapponese ai kinashi anche loro è un termine anche quello un termine giapponese che significa media della barra prende in considerazione i prezzi della barra precedente ecco perché sono più lineari rispetto a un grafico candele giapponesi che solitamente insomma sono eh si altera questo un grafico daily quindi una candela verde corrisponde a una seduta positiva su un grafico a candele ufficiali con i dati ufficiali candela rossa invece è quella negativa ai kinashi invece una colomba non fa primavera e non fa eh rialzo ribasso quindi ci vuole più di una conferma per questo motivo sono dei grafici poco reattivi diciamo ma io dico più prudenti nel senso che non di fronte a una seduta positiva non vuol dire che cambia il trend quindi c'è bisogno di più eh conferme da parte del mercato e chi magari dice ma ci vuole troppo tempo si entra tardi con le kinashi io dico che quel prezzo da pagare per la prudenza molte volte non si è entrato perché aspettavi la conferma ai kinashi ti evita di prendere degli stop dei falsi segnali quindi secondo me alla fine il bilancio tra falsi segnali non stop evitati e operazioni positive che non hai fatto insomma secondo me comunque meglio un'occasione persa che soldi veri persi e quindi insomma e comunque questa è la situazione abbiamo davanti il grafico dell'euro dollaro eh se qualcuno di voi non sa come caricare un grafico ai kinashi scrivetelo nella finestra delle domande ho visto che già avete scritto alcune richieste di analisi eh sbizzarritevi pure tanto è facilissimo e tanto è facilissimo poter fare un'analisi con i grafici ai kinashi quindi anche su strumenti che magari io solitamente non seguo però sarà davvero molto semplice per me eh almeno dirvi quello che è l'analisi la mia personale analisi con i grafici ai kinashi eh se è tutto chiaro perché è molto semplice comunque se fate visualizza navigatore apriamo un grafico nuovo lo faccio vedere al volo a finestra grafico quindi voi vedete aprite un grafico così da indicatori qui dalla finestra navigatore trovate ai kinashi lo trascinate dentro la finestra con eccola qua era apparsa sull'altro monitor per il momento qui lasciamo rosso e qui mettiamo anzi no facciamo nulla diciamo che va bene faccio degli zoom poi dovete fare tasto destro perché vi fa una sovrapposizione scegliete il grafico a linea e la linea mettete che non si vede da qua non e quindi questo è il grafico intanto facciamo anche bianco su bianco se no candela linea dobbiamo toglierla di nuovo prima dobbiamo selezionare linea e stava selezionato grafico a linea nanna che significa niente e poi tasto destro lista indicatori che non lo vedo l'ha messo dentro il grafico di chi nasce no forse no non ha preso è tolto comunque da qui mettiamo verde almeno io preferisco il verde voi potete mettere i colori una miriade di colori ed eccolo qua il grafico è chi nasce perché vi ho fatto fare il discorso del linea e togli linea perché se io metto sotto un grafico per esempio a barre vedete mi fa la sovrapposizione se metto un grafico a candele vi fa la sovrapposizione quindi non è bello da vedere insomma crea può creare della confusione ecco perché vi consiglio mettete un grafico a linea e vedete praticamente la linea scompare quindi vedete solo il grafico ai chi nasce mario che scrive mi potrebbe consigliare un libro con il quale possa approfondire le chi nasce guarda in italiano c'è forse niente io ho scritto un ebook nel 2014 un ebook dove parlo delle mie strategie e però di testi ai chi nasce infatti probabilmente la prima pubblicazione italiano riguardo al mondo delle chi nasce e quindi non c'è molto mi dispiace mario ma non c'è molto per approfondire riguardo al discorso ai chi nasce inserisco proprio perché per ricordarmi che precedente webinar noi abbiamo fatto un accenno di un'interessante strategia appunto con i grafici ai chi nasce con l'ausilio siamo anche dei livelli quindi potete sì possiamo sicuramente rivedere anche oggi però se volete potete anche rivederlo voi stessi dal canale di youtube di tic mille nella playlist dei webinar italiani c'è appunto l'ultimo appuntamento che abbiamo fatto con renato abbiamo parlato della eh interessante strategia e allora io renato io vedo un po di richieste sulle analisi eh c'era max che vedeva euro gpp e dax magari se vogliamo partire con eh appunto euro gpp e poi magari con il tax vediamo allora qui già si vede l'utilità dei grafici ai chi nasce che il primo colpo d'occhio è gentilmente c'è Mario che poi chiede il link per poter avere il conto da 30 dollari poi c'era l'indirizzo email date puoi rispondere mi sa comunque giuseppe puoi rispondere direttamente io vi scrivo nella chat di gruppo poi potete scaricare l'impatto subito quando aprite un qualsiasi grafico ai chi nasce vi dice quello che il trend in corso o se ci sono delle inversioni sempre eh in corso e qui io poi tendo a semplificare all'estremo le analisi io personalmente non amo le trend line ma questo non significa che non funzionano io a me piacciono più i livelli statici ovvero queste le rette le linee come preferite chiamarle orizzontali piuttosto che queste qui eh queste qui che sono perché perché secondo me le queste si chiamano eh supporti e resistenze dinamiche perché dinamiche perché la violazione può variare qui è un certo livello x qui y qui z non è sempre lo stesso a differenza dei livelli statici orizzontali la cui violazione deve avvenire sempre allo stesso prezzo che adesso qui è a caso ho messo 0 87 53 lo vedete scritto qua quindi 0 87 53 l'unico livello che io prendo in considerazione qui questo varia appunto questi vengono chiamati statiche livelli statici perché sono sempre quelli dinamici cambiano non si ripeto non voglio dire che sono contrario personalmente io renato de carolis preferisco le rette queste qui orizzontali livelli statici rispetto a questi qui quindi togliamoli che però ripeto anche ogni tanto riguardo di fronte a certe situazioni proprio clamorose però mi piace prendere come riferimento questo è cosa mi dice in questo momento un grafico ai chinaci faccio qualche zoom per quanto riguarda euro sterlina è facilissimo è facile giuseppe è facilissimo qual è il trend rosso rosso quindi in questo momento c'è un trend al ribasso quindi una svalutazione della nostra moneta a favore del gbp della sterlina sebbene qui guardate c'era un bellissimo livello di supporto perché io uso i grafici ai chinaci io farei la mia semplice analisi solo con i livelli statici quindi quelle linee orizzontali supporti e resistenze però chiedo help aiuto alle candele chi nasce perché supporti e resistenze storicamente sono destinati a saltare essere violati e lo vediamo proprio qui questo caso ora vado a metterla qui questa linea è giusto prendetela facciamolo un po più bella sostanziosa mettiamo un colore nero per tutti e quindi vedete lampante lampante come il mercato è arrivato da queste parti e più volte ha rimbalzato uno due tre quattro cinque quindi cavolo dico guardate qua 87 e aria 87 31 un livello dove il mercato sempre ha rimbalzato da quando d'agosto praticamente anche se vogliamo metterci dentro pure questo sono uno due tre quattro questi li mettiamo insieme queste tre situazioni e quindi io dico beh se dovesse tornare ancora una volta verso 0 87 32 volendo arrotondare anche il quinto decimale io mi pò da posizionare long no e invece no lì no ecco perché storicamente per varie ragioni vicissitudini dati macroeconomici dichiarazioni di membri delle banche centrali qualsiasi cosa anche un evento non previsto il cigno nero cigno giallo qualsiasi cigno che volete qualsiasi colore per varie ragioni questo bellissimo supporto non è detto che sia altrettanto valido in futuro e lo stiamo vedendo in tempo reale vedete adesso lo sta perforando lo sta buttando giù non stiamo vedendo proprio un caso il reale non che l'ho preparato io ma l'avete chiesto voi e come vedete sta accelerando al ribasso quindi io qui in base all'analisi degli ultimi mesi mi potevo già mettermi long a 0 87 32 adesso sto prendendo così come prezzo di riferimento e probabilmente adesso starei soffrendo e potrei anche essere in perdita magari l'ho chiusa qui perché ha fatto anche un nuovo minimo relativo sotto questi minimi se avessi posizionato uno stop sotto a questi minimi relativi e invece proprio perché chiedo aiuto ausilio alle candele chi nasce io non vado ancora a mettermi long al rialzo quindi su questa situazione quindi ho questa linea qui la cancello e aspetto aspetto il colore verde io fino a quando qui non ritorna non si rivede il colore verde non consiglio assolutamente posizioni al rialzo quindi questa è la situazione ora chi aveva chiesto è un gbp vediamo se vado a riprendere il nome max max quindi non so se tu adesso sei in posizione short o long o voli ancora deve entrare in posizione quello che ti posso dire ci tengo anche di fatto max flat bravo che non è in posizione ovviamente non è che le candele chi nasci sono la bibbia del trading quindi cioè tutto quello che dicono le candele chi nasce vale per tutte le situazioni di tutte le strategie no però una cosa è certa se in questo momento predomina questo trend al ribasso su un grafico e chi nasce vuol dire che vi è una maggiore presenza di ribassisti sul mercato che per invertire ci vorrà un po di tempo eventualmente quindi per il momento quindi è short quindi max sono un lente però lento vuole iscrivere max quindi per il momento io euro gbp il grafico e chi nasce mi dice fermo di restare di stare fermo ci sono altri livelli guardate guardate qui ora come ora guardate qui che c'è mamma mia guardate qui vedete che fantastico livello che era questo guardate resistenza visto anche nella precedente nel precedente webinar di andare a guardare è un livello in passato andate indietro guardate micidiale giuseppe questo è micidiale sto livello qui 087 è stato resistenza qui no qui ha decisamente da passato al rialzo e al ribasso ma qui siamo brexit praticamente perché 2016 era appena stato c'era stato il referendum brexit però guardate 087 area 087 87 25 è fantastico come livello però non è detto che lo sia ancora qui magari se adesso dovesse comparire una candela verde e comunque sempre io dico di contestualizzare cioè quando si forma quella candela verde quando si forma in che momento storico spesso volentieri si forma il giorno prima di un meeting o della bce o della bank of ingland si forma prima di dati macroeconomici importanti e quindi magari prima di prendere posizione vedere in contesto oppure ci sono anche quelli giuseppe io non so tu a quale scuola appartieni ci sono quelli che dicono no ma fregatene delle news dei dati macroeconomici entra e basta perché comunque l'analisi tecnica tende ad anticipare poi quello che sarà il movimento non lo so io io cerco di di trovare sempre comunque un punto di equilibrio un punto di incontro tra l'analisi tecnica comunque quella fondamentale perché comunque penso credo che una non possa escludere l'altra proprio perché è importante come dici tu sapere se è un livello si si crea in un determinato momento oppure no che è un momento storico oppure una cosa che io anche consiglio si può costruire la posizione non entrare subito con tutto le armi a disposizione quello che il capitale quindi diciamo magari costruire con micro lotti mini lotti insomma piccole posizioni e in modo tale che aumentare se la size quindi magari uno qui dice ok comincia a entrare perché è un bellissimo livello a prescindere dai chi nasce magari entra con il lotto più basso la size quantitativo più basso aspettando una verde se arriva la verde comincia a costruire la posizione aumenta il quantitativo insomma quindi andate a mano che vanno a vostro favore sfavore quindi se entrate con un piccolo quantitativo qui e che ancora non vedete il rosso però dite no qui non si può non entrare su questo livello e le chi nasce ci mettono un po troppo tempo per entrare per darmi la conferma allora cominciate ad entrare con piccoli lotti che se va male comunque perdete poche insomma pochi sono renato scusa io ho una domanda io tu devi sapere che io sono un curiosone quindi su ogni strada poi cerco di captare degli insegnamenti da poi utilizzare anche per il mio training allora nell'ottica appunto di costruire una diciamo una posizione short si può optare un ingresso scusate sono un po raffredato quindi scusate un po la sale ma posso anticipare la l'apertura short perché vedendo quel livello no quel livello statico io lo vedo da se non sbaglio da luglio del 2017 no da molto e che c'è questo da quando è supporto o prima anche resistenza perché anche qui era una fantastica in anensi tecnica resistenza violata di supporto e viceversa lampante qui qui ci vuole proprio qualcosa di e no guardate lì è uno spartiacque è uno spartiacque quindi nell'ottica che i supporti resistenza resistenza debbano saltare no mettiamo il senso che io veda questo scenario dal da dicembre del 2017 no e quindi io voglio costruire una posizione short perché dico che secondo me questo questo supporto qui poi salta si può secondo te anticipare questa rottura entrando sul primo segnale qui si poteva entrare qui short quando è comparsa questa candela rossa l'ultima la prima e faccio degli zoom quando è comparsa questa candela rossa io lì potevo cominciare a costruire a pensare di entrare short perché comunque eravamo anche su una zona di resistenza allora non è che con la comparsa di una candela rossa dopo tante verdi entro short e viceversa verde come verbo verde mi butto long no non funziona così bisogna sempre comunque far combaciare la candela rossa con una zona di resistenza candela verde con una di supporto quindi non è detto che ogni non è che ogni candela verde sicuramente non è quindi qui qui quando vedevo qui c'è adesso è anche un po rischioso perché ha fatto già un bel movimento a ribasso siamo su una zona grafica delicata sensibile dove il mercato in passato ha reagito a volte a rialzo a volte al ribasso quindi io l'appiglio qui a entrare qui adesso è anche difficile individuare dove mettere lo stop cioè se qui bisognava entrare da queste parti quando si è cominciato a invertire il colore rosso e saresti già in short qui se avresti già al ribasso e saresti già io la sapendo cioè sapendo non si sa nulla però nell'ottica che dovesse andare a rompere quel supporto io comunque direi si può si può si può allora prima di tutto qui bisogna capire dove diciamo che dopo la comparsa di questa candela verde si è creato un supporto qui e io lo vado a individuare i supporti resistenze sugli asset in dollari quindi anche le materie prime vado a tracciare il supporto sulla chiusura più bassa quindi quando si è formata questa candela verde vediamo quella che è stata la chiusura più vedete qui e adesso quando passo col mouse qui sotto vedrete i valori ci dobbiamo vedere quindi 0 87 e 64 87 10 87 10 per il momento più basso 87 10 87 10 allora questa linea qui il supporto io lo vado a 0 tracciare 0 87 e 10 quindi eccolo la quindi questo è il supporto che io ho tracciato dopo la formazione di questa candela verde ai chi nasce sulla chiusura più bassa di questo gruppo di candele è attualmente per dichiarare violato questo supporto secondo la mia umile modesta strategia che non vuol dire che ripeto vale per tutte la bibbia del trading deve fare una chiusura giornaliera perché sto usando un grafico daily di uno giornaliera di una decina di pips sotto livello quindi 0 87 10 dove io ho tracciato il supporto che significa se mi fa a fine giornata mi chiude sotto 87 10 meno 10 87 e guarda caso pure cifra tonda come si usano chiamare le soglie psicologiche quindi ci metto qualche pips in questo caso ecco perché non siate rigidi nell'applicazione della strategia quindi se in questo caso è 0 87 se mi fa una chiusura sotto 0 87 daily giornaliera questo supporto per me secondo la mia strategia è saltato quindi se non ho preso il treno al ribasso da qui quando si è formato a questa candela rossa e quindi dal giorno successivo perché bisogna aspettare la conferma quindi il giorno dopo io entro e vediamo che l'apertura è stata 0 88 e 82 vedete 0 88 82 quindi se non sono entrato diciamo a 0 88 82 vuole entrare adesso short giuseppe aspetto la violazione supporto che non è ancora avvenuta perché non ha fatto una chiusura oggi siamo non siamo 87 siamo sopra 87 e 21 lo vediamo anche qui la quotazione in corso quindi per il momento c'è un trend ribassista comunque non mi ha violato ancora questo supporto è un potenziale target se dovesse bucare chiudere sotto 0 87 se dovesse chiudere 0 87 io con le grafiche chi nasce dico sempre non mettere take profit ma usare il trailing stop il trailing stop è l'adeguamento dello stop in basso all'andamento positivo dell'operazione quindi è il brutto quando entri sui breakout che è difficile trovare anche dei riferimenti precisi sul dove uscire perché se tu entri su questa situazione di contrarian contro trend è ovvio che vai a posizionare lo stop sopra i massimi relativi può essere questo insomma poi anche la distanza importante se da qui a qui sono 200 pips e allora può essere troppo però lì money management poi ci sono altri discorsi da fare comunque quindi se da qui dovesse chiudere effettivamente il chiusura giornaliera sotto 0 87 quindi è stato violato questo ipotetico supporto perché alla fine non è stato confermato come supporto quindi se considerare questo non c'è stata la candela verde chi nasce quindi per me supporto diventa dal momento in cui vedo la candela verde però siccome di fronte ad un livello così importante se dovesse effettivamente ancora bucarlo potrebbe accelerare qui giuseppe potrebbe arrivare fino qui potrebbe anche arrivare qui e fare la verde potrebbe anche arrivare qui non necessariamente qui arrivare qui invertire farmi una verde qui adesso non lo so cioè io vado a studiare però in un'ottica potrebbe arrivare lì su quel doppio minimo che vedo anche andare più giù certo ora come ora è lampante altro livello sta qui cioè ovvio che adesso diciamo che su euro sterlina attualmente lo scenario è più ribassista che ovviamente rialzista proprio perché abbiamo questa situazione di supporto che sta per essere violato e quindi qualora poi si entrasse in quella in quell'area lì si potrebbe avere questi target che tu stai stracciando sempre ovviamente un'ottica di lunga guarda infatti guardate a me piace avere i grafici puliti cioè guardate cioè poi zoomate usate lo zoom mi raccomando zoomate che avete una visione più a 360 gradi del mercato zoomate e andate a individuare i livelli macroscopici quelli che avete visto io come ho fatto velocemente tatatata ho individuato delle zone grafiche dove vedo è lampante è lampante questa qui quest'altra quest'altra e quest'altra è lampante andate a individuare quelle quando vedete un grafico come dico io solitamente fate finta che lo state vedendo in compagnia di migliaia milioni di traders in tutto il mondo perché in questo modo se come voi hanno individuato qui dei livelli dove entrare short allora vuol dire che molti ordini probabilmente sono lì dietro pronti a scattare al ribasso perché è lampante quindi bellissimo livello in teoria sempre non è sicuro non è certezza di guadagno e se lo vedo io lo vede giuseppe lo vede daniele davide max carlo francesco salvatore daniele mario e tutti quelli che vedo che stanno scrivendo nella finestra delle domande vuol dire che se lo vediamo tutti insieme siamo pronti a buttarci a capofitto short se dovesse ritornare da queste parti 0 92 54 sto ipotizzando e adesso non sto dando indicazioni segnali operativi vuol dire che siamo dalla parte giusta del mercato però aspetto sempre il semaforo rosso ai nasci per un'inversione al ribasso semaforo verde per il perché da qui può essere anche un dice al terzo test questo lo butta giù e va a sparare ancora più alto probabile chi lo sa brexit permettendo scrive carlo per esempio nella finestra delle domande però guardate prego no a proposito di domande vedo che ci sono un po di richieste per altri strumenti io direi se è concluso con euro sterlina perché comunque bellissima analisi complimenti direi magari semplificate semplificate eh c'è davide un attimo che perché non entrare l'angos ottenuta supporto in presenza delle candele verdi ragionamento eh sì no assolutamente davide se qui si forma una verde diventa molto interessante anche perché ufficialmente questo supporto 0 87 10 non è stato ancora violato quindi assolutamente interessante infatti l'hai detto che di aspettare la verde poi kdn mi sembra max kdn e dax kdn mamma mia c'è vedete il bello dei grafici e chi nasce tappeti rossi e verdi come sono lineari lineari cioè qui dove siamo mamma mia dove siamo guardate 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 lì guardate cadiene poi è molto vicino anche al discorso azionario attenzione perché c'è la componente canadese e c'è ovviamente anche il lo yen e c'è la verde confermata la verde quindi qui dove andiamo a tracciare il supporto sulla chiusura più bassa quindi vediamo 81 45 80 89 80 89 aggiudicato 80 89 allora 80 89 è il supporto che è stato confermato con la formazione di questa candela verde chi l'aveva chiesto mi sfugge il nome guardate lì guardate lì mamma mia mamma mia che livello che livello dove siamo quindi si viene però qua e allora quando dico sempre max vedi sto cad mi segue noi giuseppe scherzo sa me a me piace scherzare durante le dirette l'abbiamo ribattezzato sto cad il cad dopo quando ci fu rialzo di tassi allora contestualizzare perché io dico sempre contestualizzare perché uno dice candela verde su un livello così non c'è da pensare minimamente cioè non devi neanche starci a ragionare entri al rialzo e basta anzi stavi fremendo perché non vedevi l'ora che si formasse la candela verde però attenzione attenzione perché già questo grafico ci fa vedere che qui c'è stata un'altra situazione verde che non è andata bene si viene da un trend fortemente ribassista guarda qui anche queste verdi queste verdi quindi ecco perché io dico sempre contestualizzare cioè vedere come anche le ultime candele verdi si viene da un trend fortemente ribassista mamma mia così come qui guardate qua che inversione che ha fatto sono proprio lampanti vedete anche qui questo supporto che è stato bellissimo questa volta ai chi nasce mi ha salvato non mi faceva entrare long perché è stato tutto al ribasso è stato il burro lì esatto vedi e qui non mi ai chi nasce mi evitava l'errore mi evitava l'errore mi evitava lo stop più che altro quindi cadm in questo momento c'è una impostazione rialzo il grafico chi nasce mi dice impostazione a rialzo su una situazione di supporto fantastica non bella fantastica quello che mi fa storcere il naso sono vedere che queste verdi non hanno brillato e che comunque c'è un forte trend al ribasso quindi qui magari si potrebbe fare il discorso di costruire mattone su mattone una posizione al rialzo poi il forex è l'unico mercato al mondo che vi offre la possibilità di usare sfruttare le correlazioni appieno perché se io qui compro cad yen vuol dire che sto comprando dollaro canadese e sto shortando la moneta giapponese lo yen se ho già delle operazioni in corso usd cad per esempio quindi dove già chi mi segue lo sa stiamo si è appena formata una candela rossa usd cad quindi se sono short entrato qui su usd cad per esempio e vuol dire che sono long di cad e mi vedo quell'altra situazione cad yen posso anche o dividere in due l'operazione quindi entrare metà qui e metà su usd cad per avere alla fine un lotto di quantitativo a rialzo sul canadese però voglio dividermi perché non mi piace più di tanto espormi solo su cad n quindi potete anche diversificare in questo modo il forex è l'unico mercato che vi offre questa possibilità perché non esiste altro mercato che tu compri fiat e contestualmente vuol dire che stai vendendo che ne so bmv non esi ford non esiste non esiste qui invece se stai comprando cad yen hai comprato il canadese e se sei short usd cad poi bisogna anche vedere i quantitativi da usare in modo tale che lo stesso volume che lo stesso valore pip sia uguale c'è se sei entrato short usd cad hai comprato canadese anche lì quindi ce l'ha il canada il dollaro canadese ce l'ha il rialzo qui è usd cad al ribasso eventualmente questo è da sfruttare è una situazione da sfruttare quindi sarebbe utile aspettare la violazione del massimo precedente dice carlo potrebbe essere un'idea se dice se aspettare la violazione di questo livello potrebbe essere un'idea quindi vedete poi voi personalizzate la strategia personalizzato oppure integratela con quella vostra per avere un'ulteriore conferma quindi questo è quello che ci dice il grafico e chi nasce quindi cad n c'è una possibile inversione poi detto ger 30 d 30 giusto se eccolo qua 30 grafico e chi nasce daily ci dice che è arrivato intanto stefano che si è appena collegato si c'è la registrazione tranquillo e al ribasso siamo però qui c'è un livello da queste parti andiamo a vedere esattamente 11.000 12.000 do di dove non mette qui 12 dove nella chiusura più bassa 12.000 12.000 c'era qualcosa più basso no qui si allora dobbiamo andare a cercare 12.000 tondi tondi mettiamolo preciso 12.000 e qui 12.000 guardate lì che sta a 12.000 guardate qui che c'è 12.000 e qui stanno tremando in germania tremano su questo livello guarda qui si guarda qui qui attenzione siamo i massimi storici e questa è la candela rossa che si è formata vedete qui la precisione su questo livello massimi storici per il dax quindi franco grazie brutta besta sono short a 92 lotti sono un po dove si sono anche mamma mia sul dax sul dax no facci sapere su cosa sei short il dax qui questo 12.000 è micidiale qui c'è la merkel ger 30 franco franco allora farò guarda per te spero che venga tutto giù perché assolutamente qui si gioca una partita però c'è stata anche recentemente una violazione perché era più in alto il supporto c'è stata una falsa violazione poi è ripartito però adesso franco il grafico è chi nasci ti fa ben sperare perché rosso ultime candele sono rosse quella di oggi addirittura ancora più estesa e se viene giù qua potrebbe esserci effettivamente un'accelerazione importante questo livello è grosso è veramente grosso è veramente grosso successivamente potrebbe qui andare a estendere fino a 11.500 ma potrebbe anche andare più giù qui con quello che sta succedendo sui mercati la guerra commerciale potrebbe essere assolutamente rischiosa la guerra commerciale per il momento l'unione europea è stata esclusa franco scrive io pensavo 11.008 11.006 e si sono livelli che questi qui ovviamente a riprendere questi li qui però e che poi anche se andiamo a prendere le cosiddette ombre e lì si è fermato verso 11.007 però potrebbe esserci un'accelerazione importante potrebbe esserci un'accelerazione importante molti anche la merkel penso guardando i 12.000 se viene giù 12.000 potrebbe esserci 12.000 attenzione poi qui ecco l'analisi fondamentale dax sta andando molto in maniera correlato inversamente con l'euro perché un euro forte va da fastidio alle esportazioni di auto soprattutto tedesche e quindi se effettivamente l'euro dovesse cominciare a pompare anche per effetto di una debolezza del dollaro al dax potrebbe dare fastidio e quindi esserci un'accelerazione e poi la guerra commerciale per il momento siamo stati esclusi gli europei però ammetti che trump qui avete visto si sveglia la mattina e twitta non si sa mai cosa possa twittare la germania l'ha presa di punta la merkel non ha neanche stretto la mano si è rifiutato pubblicamente davanti ai fotografi quindi insomma ha manifestato quella che è la sua idea con la germania e una guerra commerciale pesante per un paese fortemente esportatore con la germania pesante quindi o guerra commerciale un euro che comincia a schizzare fortemente al rialzo per il momento si è calmato l'euro sembrava che potesse fare noi massimi e quindi però è tutto da vedere una partita da seguire assolutamente questo per quanto riguarda il ger 30 rosso rosso comunque rosso recentemente rosso decisamente al ribasso perfetto e io ho visto prima forse non sbaglio però non lo trovo più sterlina dollaro sterlina allora tutto quello che riguarda tecniche tutto quello che riguarda sterlina in questo momento ecco perché dico contestualizzare non fermarsi a vedere il grafico e basta tapparsi le orecchie il naso quello che volete contestualizzare adesso la sterlina va secondo i venti brexit quindi arriva notizie positive negative addirittura la sterlina non è salita neanche quando la banca centrale inglese ha detto spudoratamente dobbiamo alzare i tassi in maniera aggressiva pure più veloce di quello che avevamo ipotizzato prima e la sterlina è rimasta lì c'è mossa pochissimo rispetto a una notizia che poteva farla sobalzare chissà che livelli perché sta aspettando brexit in questo momento quindi sembra dalle ultime news infatti lo vediamo anche in questo grafico c'è un trend rialzista che stiano finalmente trovando una bozza di accordo non la con una bozza di acqua perché quindi non riesco neanche a partire con le trattative vere e proprie e marzo 2019 e tra un anno fino al periodo di transizione 31 dicembre 2020 e qui si vede quello che è la trattativa che per il momento sembra si sia sbloccata almeno le premesse per una trattativa e quindi la sterlina e qua c'è un bel livello qui sopra il livello da monitorare verso questo 1 42 50 che è praticamente qui si vede chiaro cosa è successo brexit il referendum brexit e i massimi che ha toccato la sterlina la resistenza sui massimi post brexit praticamente da quando c'è stato brexit che è venuto crollato qui il famoso fat finger del 7 ottobre dal 1 0 5 al 1 0 7 1 0 7 1 0 9 non ricordo quei due minuti lì micidiali 1 e 20 è stato il vero supporto del brexit praticamente 1 e 20 volendo anche un po più giù con tocco sotto un evento in apertura della settimana un lunedì ricordo benissimo e questa è la resistenza post brexit quindi qui è la resistenza post brexit se dovesse continuare il bello di a chi nasce chi ci dice verde quindi adesso attenzione se già tutto tu già stavi pensando di shortare mettersi di short qui no 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 almeno se vuoi aspettare ascoltare il saggio consiglio di mister e chi nasce aspetta perché adesso è verde e se dovessero arrivare giungere nuove notizie positive a favore dell'accordo brexit potrebbe salire ancora di più e chissà uno il famoso 1 e 50 ha toccato la nota del brexit prima che arrivassero i dati da sunderland che lì fece tracollare la sterlina contro dollaro questa quindi per quanto riguarda alessandro sterlina iena alessandro gli piacciono emozioni forti ad alessandro allora premessa che tutto ciò che toccate sterlina tutto ciò che toccate sterlina è altamente rischioso e volatile qualsiasi analisi può saltare di fronte a una news brexit quindi premessa quando si parla di sterlina se poi vogliamo vedere il grafico sterlina iene è ripartito da qui da questo livello con questa verde queste due rosse oramai già sono state praticamente annullate a rialzo quindi non so alessandro se sei al rialzo a ribasso in questo momento il grafico ci dice che è al rialzo qui vedo una situazione interessante tra resistenza e supporto infatti guarda caso da quelle parti per il momento si è fermato in questo movimento a ribasso però è al rialzo se sei long se sei long al rialzo grafico in questo momento è positivo per te è al rialzo quindi almeno perché una cosa che vi dico se siete al rialzo vedete rosso e chi nasce se usate verde rosso c'è chi usa blu e rosso altri con bianco e nero non so io uso mi piace usare il verde rosso quindi se siete in posizione sul grafico vedete un colore diverso preoccupatevi non voglio dire che sicuro che andrete in perdi però preoccupatevi se vedete un colore diverso poi se si forma una rossa siete entrati al rialzo si forma una rossa ovviamente vi fa preoccupare però l'impostazione al rialzo qui deve bucare o il supporto o se mi fa una rossa vicino a una zona di resistenza eventualmente vedo max che ha scritto alla sterlina con quella caduta mi ha bruciato 10k 10.000 e purtroppo la notte del 7 il famoso fat finger max quella ti riferisci quella notte e si è stata micidiale micidiale poi altri altri strumenti vediamo se c'è qualcosa sul bitcoin 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 rialzo 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 recentemente rialzo sta provando a salire come mai ciò questi livelli già segnati qui ma non mi ricordo ma qui misteri i russi russi io quando vedo cose misteriose dobbiamo sempre la colpa ai russi allora c'è bitcoin che sta provando siamo su livelli decisamente questi sono i livelli macroscopici vabbè tranne quel massimo erano i livelli forse del dax e sono rimasti su bitcoin ok comunque non c'è problema questi allora questa è lana questi questi allora c'è da dire che sul bitcoin grafico daily è troppo lento per il bitcoin che almeno il bitcoin come abbiamo conosciuto 2000 fine 2017 era troppo lento e quindi lo ammetto era troppo prudente l'atteggiamento grafico daily ai chi nasci sul bitcoin e quindi ora a livello macro diciamo analisi macro c'è un tentativo di rialzo e questi sono i livelli che io andrei a monitorare quindi verso 11.600 11.500 e qui sotto i verso i 7.200 che anche è stata una piccola ex resistenza da due una volta violato vedete che movimento ha fatto rialzo quindi questi sono i livelli macroscopici da vedere c'è una tendenza rialzo che si è un po ripreso dopo le notizie qui perché ovviamente il bitcoin come tutte le criptovalute non si muove in funzione di banche centrali perché è sganciato la banca centrale non si muove in funzione di dati macroeconomici perché non è un paese non è un paese di riferimento quindi si muove in base agli umori delle varie istituzioni che c'è o di personaggi illustri che parlano male o bene delle criptovalute quindi anche difficile però devo dire che risponde bene all'analisi tecnica proprio perché non ha appigli extra diciamo fuori dal mercato tranne questi rumors e queste notizie l'ultima è stata quella del giappone un grosso exchange pare che non fosse in regola e poi stata smentita per il momento la notizia e però pare che risponda bene qui ripeto giusto macroscopica questi sono i livelli che da monitorare per quanto riguarda il bitcoin poi però scendete il daily è troppo lento assolutamente si scappa di mano si scappa di mano il c'è il gold e c'è il gold che è partito per la rialza il gold è non visto una domanda su forse il fuzzi mi e poi chiudiamo con le analisi e al gold vorrei voglio far chi mi segue la mattina con la diretta gold attenzione siamo sembra di rivedere il film 2016 ingabbiato tra i 1.365 è andato anche un po più su e 1.310 ci è rimasto dentro fino a quando poi ci fu l'accelerazione al ribasso il tentativo di ripristino al rialzo una sorta di pullback e poi l'elezione di trump lo fece crollare definitivamente super dollaro trump qui e ora siamo nuovamente su questo livello che è ripeto qui vedete ci è rimasto un po per un bel po fatto a ping pong così ping 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 pong e adesso sembra che stia ripercorrendo la stessa strada quindi attenzione monitorate questi livelli fuzzi mi fuzzi mi fuzzi mi fuzzi mi dove 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 in Italia eccolo qua e allora sì mi fa che mantiene delle linee dai precedenti grafici zoom zoom c'è questa situazione adesso tra qui e qui che è anche un po più basso qui addirittura si vende un po 21.700 questi sono i livelli ovviamente più sopra verso i 24.000 c'era l'altro questi vedete semplificando all'estremo al massimo però oggi ha confermato questa rossa quindi per il momento trend ribassista per quanto riguarda il nostro fuzzi mi beh ma è un po il trend generale generalizzato vediamo su tutti i mercati a cominciare ovviamente dall'america l'america vedo che sta spingendo ancora al ribasso il nasdaq viene proprio da un un'inversione guardatela qui da i massimi storici si è formata la candela rossa da queste parti e quindi ora come ora quindi tutto è al ribasso per quanto riguarda l'azionale max dice non si sente mi sentite sì no io ti sento bene max prova a fare un refresh a rifar ripartire se non senti nulla perché vedo che altri non stanno lamentando problemi quindi quando è solo un caso allora vuol dire che c'è problema caduta la linea e max è un problema probabilmente riferito solo a te prova se si prova a far ripartire max e niente poi io direi di chiudere c'è però una domanda di c'era una domanda di non mi ricordo il nome sinceramente però mi chiedevano se fosse meglio le chi nasci normale o il fatto che la metatrade hanno sbagliato a scrivere non è aiken asci che sembra la aiken asci è la corretta definizione e da johnson oltre 500 punti sta perdendo così così giusto un due per cento in diretta e l'altra versione io quella classica io uso quella classica ne ho sentito parlare di nuove versioni ma da quello che ho sentito sono addirittura ancora più lente rispetto a questa quindi ancora più che uno magari potrebbe anche andar bene infatti noi abbiamo realizzato insieme al mio partner informatico dottor sabino martiradona l'indicatore dei calos e chinasci che abbiamo fatto anche lì una versione smooth che è ancora più lenta adattata quindi eventualmente che in alcuni contesti in alcune situazioni può andare bene però bisogna incastrarla anche lì tra vari indicatori oscillatori perché l'indicatore dei calos e chinasci c'è tanta di roba lì che ogni volta provvede il buon sabino quindi insomma io personalmente uso questo uso quella classica normale diciamo lì c'è quella smooth però è abbinata ad altri indicatori altri elementi per scegliere per aspettare la conferma precisa del super trend vortex volumi ci sono tante cose insomma dentro eventualmente meno 500 punti due per cento us 30 eccolo qua allora prendiamo questo lo facciamo andare qua sopra questo lo ricicliamo e lo mettiamo qui e aggiungiamo questa situazione di mezzo ovviamente non ci sono appigli dietro qui questa perché siamo sui massimi storici quindi questi sono non ci sono molti riferimenti grafici importanti trend sicuramente decisamente al ribasso e ora qui c'è un bel test verso i 24 mila punti però è ribasso rosso 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 e chinasci come tutto tutto finanziari sto vedendo il settore finanziario è quello che sta perdendo di più anche con la prospettiva dei rialzi di tassi rosso 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 salvatore dove trovo l'indicatore sul mio sito de carolis punto tv www.de carolis punto tv trovate tutte le informazioni legate in merito all'indicatore de carolis e chi nasce nella 24 nel presente tra indicatori c'è quello classico così questo qui è l'altra utilità dell'indicatore dei cross e chi nasce che vi fa lo zoom delle candele man mano che allargate a ingrandite e ristringete si c'è lo zoom e altre cose la missione normale chiusa è quella che troviamo il pacchetto basse esatto si stefano quella che avete visto e all'inizio del video ho fatto vedere come si carica quindi poi magari potete vedere la registrazione come caricare dal navigatore sta qui tra gli indicatori vedete indicatori c'è ai che in ai chi nasce non ai 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 can asci non è sbagliato assolutamente sbagliato al posto della i comunque all'inizio del video ho fatto vedere come caricarlo e renderlo così pulito perché se no se usate per esempio quello vedete se usate solo sovrapponete sulle candele o su un grafico a barre vi fa la sovrapposizione mettete quello lineare cancellate la linea come ho fatto vedere all'inizio del video e diventa così bello tutto pulito bene mi sa che siamo in conclusione ho fatto una bella panoramica dei mercati quindi siamo adesso possiamo chiudere con la registrazione si sarà sarà disponibile per tutti eh quindi Renato non ci sono altre vedo che non ci sono altre richieste abbiamo visto un po' tutti i mercati quindi eh vi ringrazio per per la partecipazione eh diamo appuntamento al prossimo evento e riceverete sì la registrazione via email grazie anche da parte mia ovviamente ringrazio Giuseppe Ticmil per avermi invitato buona serata e fate attenzione contestualizzate se non mettete i paraocchi che vedete il verde rossa entrata rialza ribasso contestualizzate questo è il consiglio che vi do in chiusura di grazie buona serata da parte a tutti buona serata